Innanzitutto credo bravissimi noi, bravissimi noi, di portare a casa, vabbè, siamo in casa, però di portare a casa la vittoria che era molto molto importante, perché comunque così dimostriamo di essere una squadra forte, lo sappiamo tutti, dobbiamo ancora lavorare tanto, perché si vede, abbiamo alti e bassi, però questa squadra ha una potenza incredibile e questa è stata una dimostrazione oggi.